Come sbloccare il finale alternativo di Emily in Alone in the Dark, che fino ad oggi, o comunque si vociferava, essere buggato. Attenzione, questo fa spoiler su questo finale, quindi nel caso non vogliate avere spoiler, non guardate poi il finale. Dopo aver tolto dal dipinto di Jeremy la vernice, voi dovreste sottomettervi all'uomo nero. Ad oggi si pensava che questa meccanica fosse buggata, perché in nessun modo il gioco ti dava questa possibilità. Quando arrivate a questo punto invece, quando lei prenderà la pistola in mano, voi dovete con lo stick sinistro del controller, vedete che ci salta sulla destra, appena va via, voi inclinate verso destra lo stick, ecco, lei si guarda la mano e poi verso l'alto, e lei farà il gesto di sottomissione. Se non volete vedere qual è l'ending alternativo, smettete di guardare qui, altrimenti vi lascio a vedere che cosa succede. Sì, dove sei, Emily? Sono in il templo. Perché? È quello che vedo quando cerco i miei occhi. Sì, sei fredda? No. Non più. È quello che vedo quando cerco i miei occhi.